Ok, sono dentro. Cosa vedi? Deve essere successo qualcosa di brutto a questi tizi. C'è sangue dappertutto. È un bel macello. Cosa? È un bel macello. Cosa? E questo dove l'hai preso, amico in decomposizione? Composizione. Direi che siamo sulla buona pista. Come mai? Diciamo che ho appena incrociato un tizio con le tasche piene d'oro spagnolo. Le monete sono coniate con un marchio che non ho mai visto prima. Mi stai prendendo in giro? Sembra che i nostri amici tedeschi avessero un piccolo segreto. No. 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 Come da. Sono nella cabina del capitolo. Capitano. Senti qua. Lui è ancora qui. Cosa intendi dire? Sembra sia stato ammazzato. Fatto a pezzi a dire il vero. Brutto modo di andarsene. Sì, è terribile. Controlla la sua sacca. Che uomo di cuore sei, Sally. Non è possibile. Deve essere uno scherzo. Trovato qualcosa, ragazzo? UK 2642. UK... UK... UK 2642. Eccoti qua. Tutto bene? Sully, non ci crederai. Vediamo. Ho trovato la pagina che manca. Non può essere. Sembra che Drake e gli amici tedeschi cercassero lo stesso tesoro. e io ho la mappa che ci porterà dritti dritti adesso. Nate, spero che non sia un altro girare a vuoto. Dobbiamo tirar fuori qualcosa da questo viaggio o... O cosa? Sally? Sei lì? Sully. No! 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 Questo potrebbe essere un bel problema. Ci siamo. Sally? Ehi, ehi. Sono amici tuoi, Sally. Sono Gabriel Roman. Già, lo so chi sei, strozza. Sta calmo, ragazzo. Questi sono solo affari. Cammina. Piano. Mani in alto. Ok. Sono in alto. Il tuo amico mi deve dei soldi, Drake. Un sacco di soldi. Così, quando ha detto di essere su qualcosa di grosso, la scoperta di una vita ha detto. Beh, la cosa mi ha incuriosito. Ma aveva già fatto grandi promesse in passato. Vero, Victor? E adesso ci siamo ancora. Un altro buco nell'acqua. Cavolo, è sempre così logorroico. Vacci piano, Navarro. Allora. Temo proprio che il tempo sia scaduto. A meno che non abbiate trovato qualcosa lì dentro, signor Drake. Qualche cosa che possa compensare tutti questi fastidi. ti sta fregandone e ci hanno sentito. Dagli la mappa. Piano. E c'entra una mappa della Chris Marine con il dorado. Credete forse che sia una coincidenza? I tedeschi cercavano il tesoro e la mappa è di sicuro collegata. Allora, siamo pari? Per adesso? Ma nel caso servisse un promemoria... Ehi, dai, lascialo fuori. Esatto, di solito non tagliate un dito, roba del genere. È troppo volgare. No, credo che questo gli farà più male. Ehi, 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 aspetta, Roman. Lui non c'è... Sono lì! Sono lì! Finca di puttana! Fermatelo! Spara per uccidere! Eccolo lì! Lo vedo! Ehi, la cowboy! Questo è per avermi lasciato al molo. Cosa diavolo ci fai qui? Sono abbastanza in gamba da seguire una coppia di ladri di tombe. È andato da questa parte e comunico via radio! Beh, ora hai a che fare con un ladro solo. Sally è morto. Cosa? Sì, e i prossimi potremo essere noi. C'è, mi dispiace. Dimmi, ce l'hai una pistola? Ma certo. Grazie, andiamo!